Per rispondere al fabbisogno di manodopera in agricoltura servirebbero almeno altri 100.000 lavoratori. Così, col diretti stima il fabbisogno di personale nelle campagne italiane in vista dell'avvio delle attività primaverili. Come previsto, il click day per l'ingresso di lavoratori stranieri non comunitari legato al nuovo decreto flussi ha esaurito poco dopo l'apertura i posti messi a disposizione, 82.700, un numero superiore a quello dello scorso anno, ma come evidenziato dalle domande presentate, evidentemente insufficiente. Alle 10 del mattino le richieste alle imprese erano già 238.000, alle 19 oltre 240.000. Questo da un lato può essere positivo perché si parla di un settore attivo che ha una sua dinamicità, una sua effervescenza, dall'altro mette in evidenza le difficoltà a reperire la manodopera. In Toscana sono circa 24.000, ovvero il 42% del totale, le persone che arrivano da altri paesi e che sono impiegati in agricoltura. Un tasso che in provincia di Pistoia raggiunge la percentuale più alta della regione sfiorando il 50% con circa 1.900 lavoratori. Per le realtà produttive agricole pistoiesi, in particolare il vivaismo, il problema, sottolinea Coldiretti, non è solo quello della mancanza di personale, ma anche quello di scarsità di manodopera specializzata. Che abbia una certa maestria nel compiere talune o operazioni, basti pensare alla potatura delle piante, ad attribuirli una giusta forma per far capire che un bracciante comune, un bracciante agricolo comune può non essere adatto. Questo, ripeto, è un fenomeno che si sta estendendo anche ai settori dell'agricoltura tradizionale e su questo occorre anche un impegno affinché questa manodopera sia reperita in maniera stabile, continuativa e possa essere accolta anche con un periodo di addestramento o se non formazione.